Lo spazio di frenatura si quadruplica se la velocità si raddoppia. Prima di iniziare a guidare un autoveicolo bisogna individuare i comandi leve e pulsanti necessari per la guida e comprenderne bene il funzionamento. Se un fuorito della strada è in stato di incoscienza e fa fatica a respirare, bisogna liberare subito il naso e la bocca da eventuali ostruzioni. La corsia di emergenza, corsia A, è riservata alla decelerazione. Il segnale raffigurato consente di marciare una velocità superiore a 30 km orari senza alcun limite. Su una strada a due carreggiate separate in figura si deve percorrere la carreggiata di destra per la marcia normale e quella di sinistra per il sorpasso. Su una strada a due carreggiate separate in figura si deve percorrere la carreggiata di destra per la marcia normale e quella di sinistra per il sorpasso. Su una strada a due carreggiate separate in figura si deve percorrere la carreggiata di destra per la marcia 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 di destra per la marcia. Su una strada a due carreggiate settimana e la marcia di destra per 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 la marcia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La patente di guida di categoria B, salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso o salvo allineamento alla data del compleanno del titolare, vale 8 anni se rilasciato confermata che ha un'età compresa fra i 50 e i 70 anni. Il conducente di motociclo deve considerare che l'aderenza non dipende dal tipo di pavimentazione stradale. Di notte quando mancano sono insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza è obbligatorio per segnalare il veicolo fermo con il segnale triangolare mobile di pericolo anche nei centri abitati. Grazie a tutti. 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 In una carreggiata a doppio senso di circolazione per svoltare a sinistra occorre suonare il claxon per attraversare con maggior sicurezza l'incrocio. Il segnale raffigurato preannuncia una zona in cui possono circolare solo i veicoli in servizio pubblico. Il segnale raffigurato preannuncia una zona in cui possono circolare solo i veicoli in servizio pubblico. la propria avilità. La propria avilità. La distanza fra autotreni, in presenza di segnali di divieto di sorpasso fra di loro, deve essere pari ad almeno 10 metri. Il segnale raffigurato indica un passaggio alto 3,50 metri. Il segnale raffigurato preannuncia. Il pannello integrativo raffigurato indica la presenza nelle vicinanze di impianti di risalita. Nella situazione rappresentata in figura passano per primi e contemporaneamente i veicoli B e C. I conducenti di veicoli a due ruote, essendo meno facilmente visibili in distanza, durante le ore notte, le atturne devono in ogni caso circolare con i proiettori abbaglianti accesi. Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo segue sulla stessa carreggiata non abbia iniziato il sorpasso. Falsso. Vero. 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 Nel semaforo in figura le frecce rosse accese indicano di proseguire con prudenza il simbolo raffigurato se collocato su una spia di colore rosso permette di capire se la batteria viene correttamente ricaricata o meno dall'alternatore il simbolo raffigurato segnala l'accensione delle luci di posizione il segnale raffigurato si può trovare sulle autostrade è vero il segnale raffigurato indica la fine di una strada a senso unico nei veicoli dotati di servo sterzo se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle a motore spento diventa difficoltoso girare rapidamente lo sterzo per schivare un ostacolo il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza e il segnale raffigurato 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 è vero il segnale raffigurato il segnale raffigurato è vero ok davvero il numero di persone trasportabili sui veicoli è indicato sulla carta di circolazione No, no. 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 No, no.